Questa mattina 69,60 punti per lei con questo tuffo. Molto determinata, ha fatto una camminata sulla piattaforma come se volesse mangiarsela. E' strano perché è partita sulla piattaforma veramente in maniera molto veloce e mi ha fatto preoccupare un po' perché solitamente quando uno ha troppa voglia di fare succede questo, cioè vai a aprire il tuffo molto in anticipo e questo è stato l'errore di Tania. 47,85, 118,35 Tania Cagnotto precipita dal secondo al nono posto. La storia è distante 28 punti.